Una seduta del Consiglio regionale sul caso 106, via libera della conferenza dei capigruppo, ieri a Palazzo Campanella. La riunione sarà calendarizzata a breve, fa sapere il Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e sarà preceduta dall'audizione di tutti i soggetti interessati da parte della Quarta Commissione Permanente Ambiente e Territorio. Sarà questa l'occasione per una disamina a 360 gradi sulla strada della morte, partendo da un presupposto. Nel PNRR non è previsto alcun finanziamento per ammodernare e mettere in sicurezza la statale ionica. La Calabria accusa Mancuso su alcuni dossier strategici, come la modernizzazione della statale 106, a necessità di segnali concreti da parte del Governo. Per tutto il tratto calabrese, continua a circa 400 chilometri, servirebbe qualcosa come 4 miliardi di euro. La Regione, tramite il Governatore Roberto Chiuto, è in pressing sul Governo, ma la strada, perché tutta la 106 diventi a due carreggiate, quindi a quattro corsie, è ancora tutta in salita. E intanto si contano le vittime, le ultime due a roccella ionica, che hanno risvegliato nuovamente le coscienze. Soddisfazione per l'annuncio del Consiglio è stata espressa anche dalla Will, tramite il segretario regionale Santo Biondo, è positiva ed importante alla convocazione di una seduta sulla strada statale 106. Da tempo riteniamo imprescindibile la realizzazione completa di questa arteria per lo sviluppo della Calabria. Era ora che sulla realizzazione di questa infrastruttura strategica per lo sviluppo e la coesione regionale si avviasse un confronto e una discussione istituzionale. Bene affatto il Presidente Mancuso, dice ancora Biondo, a raccogliere le istanze provenienti da tante espressioni sociali del territorio. Adesso ciò che urge è la comunione di intenti. Governo e Consiglio regionale, amministrazioni locali, forze sociali e produttive, tutti quanti dobbiamo impegnarci per chiedere al Governo nazionale la realizzazione dell'intero tracciato della statale 106.